Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it In questa guida, vediamo come scaricare la giacenza media e il saldo, per i nostri conti presso la banca Intesa San Paolo, ai fini ISEE 2022. Per prima cosa ovviamente, dobbiamo recarci sul sito della banca. Trovi il link diretto nella descrizione, oppure puoi cercarlo su Google, scrivendo Intesa San Paolo. Una volta sul sito, dobbiamo effettuare l'accesso, cliccando in alto a destra su Accesso Clienti e inserendo le credenziali. Dopo aver effettuato l'accesso, saremo nella bacheca della nostra area personale del sito. Da qui, andiamo a cliccare su Archivio, come indicato dalla freccia. Appena arrivano tra le varie comunicazioni, ne vedremo una con su scritto, ISEE Carte, o ISEE Conti, o Giacenza Carte. Per vedere la certificazione, ci basta cliccarle sopra. Cliccando poi su Salva, o su Stampa, potremo salvare sul nostro dispositivo la certificazione. La troveremo nella cartella, Scaricati, o Download, ed ecco come apparirà. Come abbiamo visto nella nostra guida per fare l'ISEE Online in autonomia, di cui trovate il link nella descrizione, il saldo e la giacenza media da indicare sono quelli dei due anni precedenti. Quindi, nel nostro caso, che vogliamo fare l'ISEE 2022, dobbiamo inserire i dati al 31 dicembre 2020. I dati che ci invia a gennaio la banca, riguardano l'anno appena concluso, quindi il 2021, e ci serviranno per l'ISEE 2023. A gennaio scorso, la banca ci ha inviato nella stessa modalità, la stessa certificazione, ma riferita ovviamente al 2020. Per trovarla, possiamo andare nella barra di ricerca e scrivere, ISEE, come vediamo nell'immagine. Ci riporterà all'archivio, ma vedremo solo i risultati riguardanti l'ISEE, quindi la giacenza media e il saldo. Dobbiamo andare a cliccare sulle comunicazioni del gennaio 2021, che come vediamo nell'immagine riporteranno le voci, ISEE e, giacenza media. Nella modalità che abbiamo visto poco fa, andiamo quindi a salvare sul nostro dispositivo i due documenti. Ed ecco la nostra giacenza media e il nostro saldo, dei conti che possediamo presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo, riferiti all'anno 2020, quindi utili per la certificazione ISEE 2022. Grazie per aver seguito la video guida. Se ti è stata utile, per favore, metti mi piace al video, e iscriviti al canale. Se selezioni anche la campanella, verrai informato quando esce una nuova guida. Sul nostro sito, inoltre, lofaionline.it, trovi tante altre guide, da leggere, illustrate in ogni passaggio. Ci trovi anche sui social, o alle mail, che trovate nella descrizione. Scopri come fare, quasi, tutto su internet. Come fai? Lo fai online. Scopri come fare, quasi, tutto su internet.